c'è un'attività c'è un'attività morirà comunque guarda che strada è difficile quella missione lì quello di lingotte perchè? perchè o devi avere l'alberello oppure ne trovi 7 se ammazzi qualcuno ma ci sarà un punto dove si trovano si sta andando a raccogliere qua da qualche parte c'è una cosa di pirate c'è qualche tesoro potrebbe essere vediamo anche voi dovete fare quella sfida lì mica solo io ecco la delle lingotte cogliere lingotte vedi già hanno trovati mi chiedo una cosa hanno trovato 26 ma che culo qui c'hai? era una cassa d'oro però eh quella blu è vero però qualle casse te le dovrebbe dare l'oro comunque anche i mobi a volte sui spacchi ti da quali i mobi? tipo i let per esempio te li dai ovviamente ma come faccio salire di qua oh ovviamente dopo giocatore al mondo hai donna la nave c'è qualcuno c'è qualcuno c'è qualcuno ma la sua voce aspetta se hai un botto me lo lascio ammazzare con un lancio segacci no ma non c'è nessuno no si devo fare danni con un siga come si chiama anche sfidacci? si esatto e dopo fin... devo... cioè così mi da la testa del coso ancora un colpo ciò lo faccio il testo del magare? si certo in effetti devi trovare una roba per sfidare per farlo sta cazzo di missione eh no ma te che la dove c'è mai nooo c'era qualcosa li va a fa un culo le lucia nooo ci sono sempre almeno io ci provo a restare le persone dopo moglio io però eh infatti esatto bravo a te va a finire sempre così comunque che che prova a fare non sono te come me che non fai niente no vabbè non c'è farò eh non lo faccio tutto tutto ma non c'è nessuno no qua c'è... ah qua è qua eh c'è distributore della cosa lì ah bene ok è arrivato che cosa c'è però questo è giusto quello lì si scappi bene eh si scappi bene eh mi scappa bene eh se non sei sicuro che non c'è un è il numero uno a scappare eh numero uno qua c'è un cosa due colpi se dovete fare la missione e l'altra finitura quindi qua c'è allora usa onda energetica per distruggere un senso articolato grande ok ok devo distruggere un semi articolato grande sai qual è il semi articolato grande? mi sto dando però proprio che pompa è non te lo da sempre il... perchè non prendi la kamehameha eh perchè fa schifo non mi piace no è forte in realtà eh però forte in realtà eh però chi non ci spartano? che cazzo temati a lui cos'è? un po' un po' pesante c'è quello tazzo dove l'hai trovato? nel mio fiorellino come l'hai detto? come l'hai detto? come l'ho detto? un po' così dai ora avanti dov'è? 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 comunque è vero è difficile comunque fare questa missione e l'ho puntato è dietro di te lo vedi? non c'è più niente allora non c'è più niente qua c'è i mini scudi se vuoi i mini scudi non c'è niente comunque la nostra taglia è a boschetto è l'altra parte del spiegaccio no ho due e sul fare io e dammi si è andato ma ragazzi dammi si è partito dove cazzo è andato? sinceramente? ma dove sta andando? c'è gente qua sinistra ah si? in che modo posso sopravvivere e pushare? ma che cazzo dico? non vado a morire? 45 45 guarda bella stava cazzo dico cazzo dico ma dov'è? no ma troppo distante no ma troppo distante no ma troppo distante no ma troppo distante più bianco dove? dove? ok la mattata c'è qualcuno di eh? eh uno l'avevo preso ma dov'è? eh ormai è andato via dove? quale ha buon suonare io mi aiuto da che sede ma è il suo ma non ti sia regalato eh bravi 2 qua c'è l'anore energetica ancora piena e una nuvoletta e un uomo è uno bot eh sei lì eh sei lì ah sì eh due posso sparare.. fai l'idea il suo botto sono in una parte lì, è quella come gioco da dio io di fortnite ragazzi eh che sicuro eh guarda che maestria sento un casino che non so va bene va bene tutto però che panno è tommeno in ragone non posso dirlo con botta ma c'hai botta a casa c'hai ma chi è? chi è che c'è a casa tua? ma che te ne frega? ma che te ne frega? ma che te ne frega? io non so perro ma devi sapere che chi è? no ma che fai? e quello mi serve se l'ho fatto giusto che me lo dici? non so che lo devo fare mi scappi bene è vero ma che scappi Puccio con quelle le fiamonete non scappi Puccio con quella non scappi ma anche qui studiando sui scopare ancora che vuoi? è un papà un'amica di mia sorella capito un'amica di tua sorella? c'è la voce dell'uomo è un quarantenne un'amica di tua sorella non può essere è tu papà ah il papà ok ok e poi di linda via perché è tardi dice e mezzo andrà a casa della gente eh ma che cavoli per andare in piscina no valla questa dice e mezzo ancora delle persone non c'ho farò non c'ho mai 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 visto quell'ora di casa tua no ovvio perché deve stremmare oppure vuoi dormire anzi no no perché vai a parcerata con il rupato una se l'ha vista anche fino alla 1 e notte secondo me benichella la c'è la che ha fatto la balla dai riuniamoci raga dai dov'è teandro? no lascia siamo tutti qua elimina pg vincenzo ah quello là è hai visto? ma come cazzo ha cammino? ma quello là è quello là di ciccio gamer eh pg non so se ti ricordi pg è ciccio gamer quello là ah eh la c'è stata prendi le munizioni dire so che io che sei sempre senza ma quando vedi le calcette verdi prendili no non so neanche arrivata dentro no no che ditte alla fuori il super tavolino vabbè aspetta che devo quello raccoglio comunque la partita dei lingotti tecno non è da fare in una sola partita giusto? ah allora puoi fare in una sola partita in una sola partita dico no ah beh allora non si può farlo pensavo uno solo dovevi fare ma crspio madonna ragazzi che maestria si però io ci ho messo 3 partite per farlo 3 partite ah io sono a metà e sono arrivato si ma ho fortunato perchè tu li hai trovati subito le cose io ah beh perchè ho trovato la cassa anche quella blu comunque me ne ho dato 25 dipende anche perché comunque i tesori non te ne danno sempre i lingotti eh comunque quando le cavolo stanno ma infatti vorrei saperlo anch'io ma chi? e' da pinnacolo e andiamo a questo punto perchè fateci domande qua? ma che cosa fiega? gente scusa dove? c'è cos'è che cerco? io cerco gente non è che cerco cerchi patate ma tecna dove sta andando? boh io stavo luttando qua ma da pinnacolo usciranno a fozzare ecco liiii non ho tanto non ho visto tantissima munizione eccolo e' entrato dentro ah ma quello e' un bot sicuro oh beh oh ma se tipo atterrate qualcuno posso mattarlo? c'è finirlo io con una scega si sono in due si oh ma cosi si è fermato ma ha sparato due colpi ma che bastard no non sono botte comunque pensavo che qui c'è coltanto oddio ahhhh io non ho sograto aspetta voglio che non ho posto eh qui c'è no è uno quasi morto dai fai la guida quello e' morto ha proprio da quanto e' la missione? e' la missione tu e' la missione tu uuh uuh e' io mi prendo le cure piglia tutta che bravistimi raga cosi' si gioca vedi questo è il bello maestrino del gioco di squadra bravo wow grazie per una volta sei stato con il gruppo david pazzesco eh è un bravo c'è una cura eccolo eccoli ecco lo sono cazzo è succede serio? vado vado non lo cura vedi ci sceglie c'è qualcuno con la sfera energetica Ho sparato il bot Bra Ma dove cazzo No perché mi spara a me Non è giusto C'è uno ancora qua Si sa che c'è uno Che sta curando Non vedi il coso Ecco No stai rimando No c'è cosa Pezzo di merda Ma guarda che roba C'hanno un culo pazzesco Surridi porca Dove è che è atterrato Lì a qua se vuoi c'è un cecchino leggendario Ma che culo che c'ha però Ma perché mi sei bloccato una volta scatti Ma che cazzo sta succedendo Ma è qua ancora Ancora qua il tipo Io l'ho fatto 2 più 36 No stai bot di merda Non l'ho per cazzo Che ho lì? Ah è lì quella Madonna ma lì Dillo che fai tu Stai sparando Stai sparando Sì non l'ho beccato Mi avete ucciso Fatemi un uccidere qualche duro Ciao Marconè Grandissima Si devi fare la sfida a farla No devi Ciao Marconè Ti hai creato Ma devo trovarli Ma devi coprire la gente Devi colpire Saluto Marconè Salutalo il vino Mi ha salutato Ti ha invitato Mi sento il sangue Vai Non prendete i colti Sono miei Non serve Grazie Per me lì dov'è Dove mi conosci da Io vado eh Uwaw Dai che fai maledì Perché c'ho quattro persone che mi osservano Eh perché sei scarsa Vai Contrario semmai Guardiamola Aspetta che devo trovare Qualcuno da sparargli Eh sono comacita Ah la cosa Ecco lì Addia Andare giù bassa Che cazzo sono qua Ma dove c'è Ah Ma che questo non era un bot Comunque Però L'ho fattuto Senta qua a sinistra Senta qua a sinistra Senta qua a sinistra Ma se fai merda Cacchio è Io l'ho ucciso bene Quello è comunque Siamo unito Oro Aiutami Ti ho sparato Ma perché c'ho Si mi spara d'olta Cazzo Io Perché c'ho 132 di oro Cazzo Tutta la trolla che fino ha fatto Scusa Che cazzo Sto sparando No 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 Che è successo Te qua Ok Che Ah Madonna Forza Juve Marconi Niente 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 Sto volta Non so Riuscito a farlo Madonna Stavo per morire